La morte dell'operaio di 58 anni di Vitulano, Pellegrino Ciotta, deceduto nella notte tra lunedì e martedì a Benevento, mentre stava effettuando il suo turno di lavoro in una fabbrica specializzata in materie plastiche alle porte della città, travolto da un voluminoso sacco di polimeri di materia prima plastica. Dopo la tragedia dell'operaio, che lascia moglie e figli nel suo ultimo giorno di lavoro, prima delle ferie, si riaccende di nuovo i riflettori sulle morti bianche. Diversi sindacati che a Benevento in queste ore hanno espresso il cordoglio per l'ennesima morte sul posto di lavoro, ma anche parole di rabbia nei confronti di un sistema lavorativo che va assolutamente cambiato. Dalla UIL alla CISLE alla UGL, parole di necessità di controlli ispettivi e sanzioni da attivare. Si tratta del secondo episodio. A Benevento, dall'inizio dell'anno, dopo quello del 14 febbraio, nella zona industriale di Puglianello, un uomo di 43 anni morì nel piazzale dello stabilimento dell'azienda dove era impiegato. La vittima, un operaio di un'impresa per trattamenti protettivi con sedia a potenza, stava eseguendo delle operazioni nei pressi di un mezzo pesante. E come non ricordare, se si va ritroso a Benevento, la morte di Alessandro Donofrio, il giovane operaio di Faicchio, deceduto nel giorno della sua promessa di matrimonio il 10 ottobre dello scorso anno, dopo essere caduto da un'impalcatura dove era impegnato in un cantiere edile per spicconare l'intonaco di un edificio condominiale in Viale Atlantici. Nel 2020, poi, il 3 febbraio, sempre a Benevento, alla stazione centrale, la morte di un operaio di origini napoletane di 58 anni caduto su un'impalcatura ad un'altezza di circa 4 metri. Troppe morti e tanti gli interrogativi.